Salve a tutti, vi mostrerò brevemente le capacità delle nuove API fotocamera disponibili con Android Lollipop. Qui ho l'applicazione El Camera che mi aiuterà nella spiegazione. Abbiamo tre possibilità di impostazione, il potente delle impostazioni per la regolazione delle dimensioni del video e la moneta a salvataggio RAW combinata con JPEG. Come qualsiasi fotocamera abbiamo il nostro classico tap the focus che come vedete non funziona in cerco di tappare ma regola solamente l'esposizione. Perché? Perché l'autofocus in questo momento è messo su modalità manuale, se adesso provo a metterlo in modalità automatica, faccio tap the focus sulla pallina e dovrei riuscire a metterla a fuoco. Magari ho anche qualche difficoltà. Quindi se ho difficoltà ce la capiamo con questo. Un apposito slider, notate dietro come tenderà a perdere fuoco il prato dietro nella visuale e mettere a fuoco la pallina perché sto impostando l'autofocus. Adesso metto a fuoco l'oggetto più vicino che dovrebbe essere questa parte del terreno. Torno a mettere a fuoco la pallina con la roccia. Vediamo un po' come dovrebbe essere. Ci siamo quasi. Ok. L'impostazione è qui vicino. Oltre a questa regolazione, regolazione dell'esposizione manuale, attiviamo il manuale, regolazione degli step e la regolazione sensibilità ISO che era l'unica cosa che si poteva fare con le vecchie fotocamere di Android. La regolazione dell'esposizione sarebbe il tempo di apertura e chiusura dell'otturatore se questo dispositivo avesse un otturatore fisico, ma in realtà è il tempo di acquisizione del segnale digitale da parte del sensore di questa fotocamera. Oltre a questa c'è una moneta burst, puoi scattare 30 fotogrammi in un secondo alla massima risoluzione. Attivazione moneta video per altre cosucce. E il momento che vi ho fatto vedere prima con la risoluzione e la moneta di salvataggio combinato RAW e JPEG. Se per esempio adesso provo a effettuare uno scattino, magari se ci riesco. No, non ce lo fa fare. Vabbè, ci arrangiamo. Questo solamente fa vedere una piccola antrima di quello che si può fare. Spengo la registrazione.